bentornati a full out amici avendo dei problemi con il joystick adesso finalmente dunque adesso ho preso un avevo preso uno zweeney marca zweeney wireless per un plasticone del cazzo quindi lo restituirò che non va neanche contro oltretutto dove andare col bluetooth ma non non funziona e stando problemi e alla fine ho rifreso l'altro non si riprende adesso è ripreso però non so se riusciamo ad arrivare alla fine vabbè e quindi ho ripreso quello che sto usando che è il tory adesso vabbè a parte questo qua sfigato che non funziona però in generale ve lo consiglio perché è bello solido wireless senza senza pile il mio è fottuto continuano problemi però ancora una volta non ciò di giocare con la testa è che sfigato mi era male e allora c'è un braminone è un'altra persona allora braminone 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 fin?, LOGO l'UNTER L'UNTER Si oczy jeśli si oczy si oczy si oczy si oczy si oczy beh non si lavora allora cerchiamo di fare un qualcosa vediamo di non dar troppo indagare che se poi non non mi funziona più in giro i pali è che tutto sommato questa zona l'abbiamo scoperta potremmo andare a vedere qua che mi sembra una roba non tanto impegnativa l'hotel del volto tori quindi adesso dovrebbe arrivarmi dopo domani speriamo che non finì coglioni dopo il tempo questo tribunale fortuna posso fare il reso perché figa se no il primo che ci avevo l'ho rotto è caduto un sacco di volte ho rotto l l1 poi l'ho aperto per cercare di sistemarlo e non va più perché quello lì però non era già più in garanzia quindi praticamente ce l'ho lì e poi magari niente mi vieta più avanti di prendere un altro uguale fare un reso di quello vecchio una furbata ma alla fine amazon non è che va in fallimento magari vedo l'ho certo ma prima bisogna osservare la situazione poi però anche la furtività aumenta dov'è che sono gli altri stronzi perché figure di se ce n'è uno non ci credo neanche un po' un agguato o via Piper via oh god bello con la testa ola oh meno male antibiotici perché l'altro della cosecca ah no era uscito fuori 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 fai per a farti incasinare tante ottime cartucce per il fucile a pompa ah secondo me c'è ancora qualcuno perché c'è la porta chiusa non c'è la mia non c'è la mia non c'è il nostro il nostro lo nooo, se me ne faccio il super materiale non c'è un suicida in giro? no, l'ha armato questo è passato no, l'ha armato 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 l'ha armato l'ha armato no, l'ha armato no, l'ha armato per la diffusione no, l'ha armato non è armato ho provato cordon è armato è armato Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un osso duro, eh? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un c***o gli stava facendo. Stava facendo un c***o della madonna con la spada. Vai, vai, finiscelo tu. Ah, perché se la giocavano... Grande piper, sono il numero uno qui. Aspettato. Mi ha fatto il c***o. Allora... Tante munizioni che... Meno male... Oh... Aspettato... Aspettato. Aspettato. Anzi... Inspira... Un ciclino Vision Trailbla... Affeduto. AffedutoOUGH... in particolare un capanna in rovina 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 si sono scambiati da soli c'è una robotizzata prendere gli spaghetti perché a beccarne porto il materiale e magari costruisco qualcosa posso anche la nebbia i giorni nebbiosi non sono molto amici per esplorazione non 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 nemmeno stiamo vedendo su un nebion però fa che male con le basse bene ragazzi che ho portato un po di materiale non ti preoccupi la stagione l'albero non è che serve gente devo capire se c'è un modo per attirarle per su l'albero poi questi qua bisogna capire in che modo magari inglobarle o non mi spandare tutto questo questo qua questo macchinario qua per la nebbia però non si spiega anche questo inglobarlo in qualche modo non mi spiega 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 vabbè questo ci attaccherà in qualche modo non mi spiega 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 Ah, sono andato a casa. Sono seroggiati in base al suo inventario quando ricevi energia. Scegli cosa costruisci a renderminare con le grane. Ah, che... F***ata. No, più che altro a questo punto... Sarebbe il grado quattro scena... Eh, questo sarebbe interessante perché produce cento, f***a ne metti uno. E c'è l'energia per far tutto. Eh, sì. Allora aspetto. Dai, ma non arriva qualcuno. Tu perché stai qua? Vabbè, livello di scala 1 adesso va bene. No, non è che su una frega. Non si prendiamo qua. No, non è che su breve. No, non è che sui... No, non è che sui... Grazie a tutti C'è qualche sedia un po' più shallow? Eh, magari questo C'è qualche sedia un po' più shallow? E' anche un cane ci vorrebbe un po' più shallow? L'utumano, da me l'utumano però è il divano C'è un centro all'aperto dai C'è un centro all'aperto dai Come mini cagata per adesso Tanto per raggiungere qualcosa ogni tanto Anzi andiamo a bere A parte che non è neanche notte C'è un po' più shallow? C'è un po' più shallow? E si lavora E ci vorrebbe una persona in più fare un baretto Un paretto qui ci sta Un paretto piccolino 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 non arriva qualcuno da saltare ma buona ma buona Grazie a tutti Grazie a tutti Perfetto E' un fucile artigianale Questa barca ce l'ho salito, non mi ricordo E' un fucile artigianale E' un fucile artigianale E' un fucile artigianale Un' fucile artigianale E' un 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 fucile artigianale no maledetta nebbia mi è finita ancora nei polmoni allora partiamo? ho bisogno di scambiare un paio certo non c'è un cazzo non c'è un cazzo oh andiamo a dormire Piper oh questi non so se verranno qui a far mercato vediamo alla prossima no 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 Grazie a tutti